Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domenica le celebrazioni per la festa della Repubblica nell'area tra Piazza Venezia e i Fori Imperiali e al Quirinale. Previsti di vieti di sosta e limitazioni alla circolazione. Il piano mobilità in aggiornamento è su romamobilita.it. Ancora domenica nel pomeriggio celebrazioni nelle basiliche di San Giovanni e Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco. Possibili chiusure in Piazza di Porta San Giovanni a Via e Piazza dell'Esquilino.